Dal primo novembre parte In Cucina con lo Chef, il programma che va in onda su Telemolise TV6, arrivato alla sua quarta stagione e dedicato alla cucina e alla buona tavola. L'avvio della nuova edizione la conferma che la trasmissione, divenuta ormai parte integrante del nostro palinsesto, è cresciuta in termini di ascolto negli anni. Tante le novità introdotte nel tempo, ma il programma ha sempre mantenuto il suo format originario. Lo spirito è sempre quello. Noi diciamo che pensiamo di essere diventati un programma di servizio. In che senso? Il punto di riferimento, che è quello che ci siamo posti come obiettivo dal primo anno, è sempre quello. Cioè noi vogliamo aiutare le casalinghe, le persone che cucinano, a migliorare le proprie tecniche e a dare anche degli spunti, delle idee di quello che quotidianamente loro fanno in cucina, preparano in cucina. Questo è lo spirito su come è nato in cucina con lo Chef e noi continuiamo con questa, questa è la nostra mission. I protagonisti sono gli stessi che hanno partecipato alla parte finale della scorsa edizione, in particolare i tre giovani chef appartenenti al team Vizzarri, Walter Durante, Giuseppe Petacciato e Giovanni D'Amore, oltre al prezioso contributo della pasticcera Daniela Carissimo, che ogni sabato preparerà e presenterà il dolce della settimana. Siamo contenti di essere arrivati alla seconda edizione, abbiamo dei riscontri positivi, ci dicono i produttori, l'idiatore del programma, che comunque gli ascolti sono alti e quindi non può che farci piacere. Abbiamo questa vetrina tutta per noi, per poter metterci in mostra, anche perché quest'oggi il mestiere dello chef è diventato quasi una moda, tra virgolette, e quindi noi siamo felici di poter dare consigli alle casalinghe e a tutto il pubblico che ci guarda. Il gruppo editoriale di Quintino Pallante continua a credere nel progetto e soprattutto i partner del programma, aziende e fornitori con cui si è ormai consolidato un rapporto di fiducia e stima professionale. Questo è il quarto anno che abbiamo questa collaborazione con il programma, fornendo appunto i prodotti che servono a preparare i piatti, diciamo. Questo ci ha portato anche risultati per la nostra attività, perché appunto i nostri clienti ci dicono che guardano soddisfatti la trasmissione, insomma, un bel progetto. Spazio anche alla scelta dei vini. Sono un produttore di vino, anche quindi un esperto, e sono stato chiamato per una consulenza sugli abbinamenti di vini da fare su alcuni piatti che settimanalmente farò degustare e quindi darò il mio contributo secondo una mia personale opinione. La principale novità per la stagione 2018-2019 è sicuramente il nuovo set che è stato allistito a Guglionesi grazie alla collaborazione con il partner Antonio Durbano, titolare di Durbano Arredamenti. Abbiamo deciso di risposare questo progetto di In Cucina con lo Chef, perché l'anno scorso abbiamo riscontrato un grande successo e quest'anno abbiamo deciso di dedicargli un intero spazio. Abbiamo inserito elementi nuovi all'interno della composizione per far sì che i ragazzi che lavorano alle cucine possano sentirsi a casa. Confermata anche la striscia quotidiana delle 18.50 da lunedì al sabato. La domenica invece dalle 11.30 andrà in onda la replica di tutte le puntate della settimana.